PEGI 18 Allora dimmi come ci si sente a uccidere il proprio fratello? Non posso dire che a me sia piaciuto molto, non ti sei nemmeno preoccupato di mettere in dubbio gli ordini, vero? Hai fatto solo come ti veniva detto. Sai cosa penso? Penso che ti senti colpevole. È per questo che continui a scappare. Grazie a tutti.